Noi siamo senza telefono e i nostri clienti quando si cercano non riescono a trovarci. Più c'è internet che non funziona, è una cosa molto importante perché oggigiorno si lavora solo con internet. Noi come attività commerciale ci ha messo in ginocchio. Noi praticamente siamo isolati, quindi considerate che io mando via continuamente gente per discorso post, non posso bisognare un saldo di un cliente, praticamente la nostra azienda è paralizzata. Senza né internet né telefono da oltre una settimana il paese di Vitiano è paralizzato. Dal 27 settembre circa 80 utenze, famiglie, esercizi commerciali e imprese stanno fronteggiando i problemi della disconnessione della linea telefonica ma nonostante le segnalazioni la situazione non pare potersi risolvere in tempi brevi. La cosa ancora più grave è che il gestore dell'infrastruttura ha determinato la data di ripristino il 12 di ottobre, ben 16 giorni. Come consigliere comunale ho cercato di sensibilizzare l'amministrazione per far pressione sul gestore al fine di poter ripristinare questo guasto in tempi più brevi perché oggigiorno con internet c'è gente che ci lavora, che ci studia e lasciare buona parte del paese così senza questo importante servizio è una cosa grave e ingiusta.